Incidente nella mattinata di sabato 2 marzo, poco dopo le 11, in via 20 Settembre all'Usiglie, a scontrarsi due vetture, una lancia Ypsilon e una Fiat Panda. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, la croce rossa di San Giorgio Canavese, i volontari del soccorso avanzato di Caluso e i carabinieri di Castellamonte. Dopo l'impatto l'Ypsilon si è fermata contro il muretto di delimitazione di una casa, mentre la Panda ha terminato la soccorsa in mezzo alla carreggiata. Ferite le conducenti, due donne, che dopo le prime cure sono state trasportate in ospedale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.